Occhio a questo lancio, occasione per il cicciarito, palla di battuta ma non è finita. La Lottana di Pugno. Punta l'area, buona l'inquenzione qui, Berga tutto solo. Pallone in mezzo, e c'è il tiro. La Lottana di Pugno. La Germania prova ad avanzare. Occhio. Attenzione, pericolo. De Sille. Che gol! Splendida rete! Arretrano il baricentro per invitare gli avversari ad attaccare e scoprirsi. Attenzione al tiro. E c'è il gol della Germania. Reus. Sembrerebbero partire per un match di contenimento, almeno giù. Gemmaile, occasione d'oro. E c'è il gol dell'��athlete. Encendate. Pericolo. E c'è il gol. 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 Viene avanti la Serbia Ecco il tiro Coutinho La caccia del gol del pari Occasione Occhio Firmino Occhio Firmino